A lezione di educazione civica e di legalità da uno dei simboli di una stagione, quella del 92 di Mani Pulite, che di fatto ha cambiato inevitabilmente il volto della nazione. A discutere con gli studenti dell'Istituto Giovanni Verga, nell'ambito della seconda edizione del Salone del Libro, uno degli uomini del pool guidato da Antonio Di Pietro, l'ex magistrato Gerardo Colombo, che da un po' di tempo è diventato divulgatore e formatore attraverso la pubblicazione di alcuni libri sulla Costituzione dedicati proprio ai più giovani. Inevitabile parlare con lui di quello che fu Tangentopoli e di quanto si è cambiato da allora. La corruzione è ancora molto estesa nel nostro paese e quindi non è che si sia fatto un salto di qualità. Ma vede, io sono convinto, convintissimo, che non è attraverso il processo penale che si riesce a marginalizzare un fenomeno così diffuso come la corruzione. Secondo me sono dei temi che vanno affrontati a livello educativo, cioè è necessario che noi riusciamo a capire quanto importante sia evitare la corruzione per il bene di tutti. Oserei dire anche per il bene di coloro che pensano di avvantaggiarsi attraverso la corruzione. Ecco perché proprio in questi anni Colombo ha puntato sugli incontri con i giovani per rieducare alla legalità e al rispetto delle regole. È un luogo comune quello di pensare che le regole siano delle imposizioni che servono a far obbedire le persone. Non è che siano così le regole, è che succede che vengano usate in questo modo delle volte. In contrasto anche con la nostra Costituzione, ma fin fine, perché la nostra Costituzione le regole le vede come uno strumento per fare in modo che ciascuno di noi sia rispettato come gli altri. E credo che a tutti interessi essere rispettato. Ragion per cui se le regole venissero osservate, le regole che arrivano dalla nostra Costituzione, le regole della nostra Costituzione, il vivere comune, il vivere insieme sarebbe molto diverso. Dopo aver incontrato a lungo gli studenti, Colombo è stato protagonista di un dibattito proprio sui 30 anni di Mani Pulite, a cui hanno preso parte il procuratore capo della Procura di Gela, Fernando Asaro, il delegato distrettuale dell'organismo forense Emanuele Maganugo e il sostituto procuratore Luigi Lovalvo, a moderare l'incontro l'avvocato Michele Orlando. Soddisfatta la dirigente Viviana Aldisio, deus ex machina di questo salone del libro che in un anno è già cresciuto di tanto. Gerardo Colombo rappresenta il nostro testimonial, a cui seguiranno incontri anche durante aprile e anche chiaramente con le due giornate piene del 13 e 14 maggio. Siamo contenti perché ci rendiamo conto di crescere non soltanto nel territorio locale ma nel panorama regionale e nazionale rispetto già alle adesioni che abbiamo di tanti autori e di scrittori di narrative per bambini, ragazzi, autori di romanzi per adulti che comprendono tantissime tematiche. Ci vorremmo non tanto qualificare come unici perché da soli non si va da nessuna parte. Il risultato lo si ottiene solo se si fa rete e nonostante la pausa Covid abbiamo voluto riprendere non una tradizione ma un'azione che diventi una costante secondo tutti gli anni della nostra cultura viva nella città di Gerardo.